Tutti da salutatore, grandissima sorpresa, mi trovo qui con una bravissima e bellissima Alezia Ventura! Eh, ma sei troppo sentita! No, no, pura verità! Salutiamo tutti i tuoi fan che ti seguono da sempre! Meno male, lo spero, mi raccomando, domani sera dovete fare dopo quarto grado, in seconda serata, e c'è il Gran Turt Italia, le nuove puntate, non perdetevelo perché abbiamo preparato un sacco di cose per cui... È veramente bello, ci sono delle sorprese, non anticipiamo nulla, vedete domani in seconda serata, ti diciamo solo che tra poco partiremo anche per New York, per Rete 4, tutti i venerdì ricordiamolo, tutti i venerdì sera, in seconda serata, grazie, io ho una sorpresa per te, ho la manina del salutatore per te, ciao, salutiamo tutti i tuoi fan e tutti i fan di Gran Turt Italia, ciao!